Ma quanto spende il comune di Teramo per bonificare una discarica che puntualmente si ripristina nel tempo di 2-3 notti lungo la strada che porta verso il distributore del Bentano a Piano Daccio sotto la statale? Sicuramente spende tanto, anzi troppo, tra i 500 e i 3000 euro, a seconda del volume dei rifiuti gettati dai soliti incivili, purtroppo ancora ignoti. Il comune è intervenuto più di una volta tramite il servizio del vigile ecologico Vincenzo Calvarese, ma lo scenario purtroppo resta sempre uguale, anzi si ripete da troppi mesi, forse anni, e nonostante le bonifiche pagate in fondo da tutti noi teramani, l'inciviltà resta sovrana. Una microdiscarica abusiva che sembra essere diventata ormai parte integrante del paesaggio sotto la statale e a nulla valgono da una parte le denunce e le segnalazioni, dall'altra gli interventi di bonifica a spese del comune. C'è di tutto, una poltrona, un materasso, spesso e volentieri elettrodomestici e poi sacchi dell'immondizio ovunque. In passato, in più di un'occasione, lo stesso comune aveva sollecitato l'ANAS, che qui ha una piccola pertinenza, ad allineare a livello della strada la recinzione presente, evitando dunque di creare quell'insenatura trasformata in discarica a cielo aperto. L'ANAS ancora non ha fatto nulla. Una soluzione potrebbe essere sicuramente la videosorveglianza o anche per motivi economici qualche fototrappola di quelle che già in altre zone della nostra provincia, a cominciare da Giulianova e Pineto, hanno permesso di incassare gli sporcaccioni. Ma in attesa delle scelte ci godiamo lo spettacolo a spese nostre.